Nell'attesa che l'avvocatura regionale riceva dal Consiglio dei Ministri la comunicazione ufficiale dell'impugnativa della legge regionale sul fermo pesca dei ricci di mare nell'ufficio del governatore Michele Emiliano, che ha già annunciato l'intenzione di opporsi, è arrivata una relazione sulle motivazioni per le quali quella decisione del Governo centrale non è corretta. A far pervenire il suo parere tecnico è Vito Marchitelli, ricercatore che nel tempo ha spesso collaborato con la regione su diverse materie, soprattutto ambientali. Nella sua relazione Marchitelli contesta anzitutto un errore di riferimento legislativo, perché il Governo cita la vecchia legge 963 del 1965, che però, sostiene lo studioso, è stata abrogata e sostituita dal decreto numero 4 del 2012. Entrando poi nel merito, l'esperto sostiene nella missiva al governatore che la regione, approvando all'unanimità la legge, non si sia posta in contrasto né con le disposizioni comunitarie, né con le leggi nazionali e tantomeno con materie di competenza statale. Perché ovviamente la legge regionale non fa altro che entrare nel dettaglio dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 12 gennaio 1995, quello che è appunto il decreto ministeriale di riferimento per quanto riguarda i periodi di sospensione dell'attività di prelieve e pesca di mare, andando ad opportunamente apporre un periodo di restrizione alla pesca che si estende a tutti e 12 mesi dell'anno per tre anni. Questo ovviamente in linea con quello che sono le stesse motivazioni adotte dall'allora ministro per l'agricoltura, che in calce motivava appunto il decreto ministeriale, con la necessità di tutelare e permettere la ripopolazione delle specie marine in questione. In ultimo, Marchitelli pone l'accento sul decreto del 1995 dell'allora ministro delle politiche agricole Adriana Polibortone, nel quale l'articolo 4 disciplina il fermo pesca dei ricci nei mesi di maggio e giugno. Un passaggio importante, giacché nelle motivazioni dell'impugnativa da parte del governo centrale, da un lato si fa riferimento al fatto che le regioni non possono decidere in materia esclusiva dello Stato, ma al tempo stesso, fa notare Marchitelli, si riconosce la competenza delle regioni nell'apporre limiti più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalle norme nazionali per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. E, conclude, è questo il caso, perché non introduce un fermo che non esisteva, ma semplicemente lo estende, rendendolo dunque più restrittivo, per un periodo peraltro limitato, per consentire il ripopolamento della specie, quindi per la tutela dell'ecosistema. Grazie.